La OLEP è una tecnica chirurgica che consente di trattare quei pazienti che soffrono di una patologia che è molto comune, che è l'iperplasia prostatica, che la maggior parte degli uomini in età adulta, in età avanzata, conoscono molto bene perché è una patologia che incide molto negativamente sulla loro qualità di vita. I nostri pazienti affetti da iperplasia prostatica benigna infatti riferiscono di avere una minzione notturna con frequenza aumentata, riferiscono di avere urgenza nella minzione, riferiscono di avere problemi appunto nel gestire la loro minzione. E la OLEP è una tecnica chirurgica che noi utilizziamo per trattare in maniera mininvasiva questo tipo di pazienti che purtroppo non hanno più un'efficacia da quella che è la terapia medica, perché la terapia medica sicuramente è il primo approccio a questa patologia, ma ha il limite che non è sufficiente in diversi casi. Quindi quando diventa insufficiente sicuramente dovremo passare a quella che è la terapia chirurgica e sicuramente l'intervento con il laser ad olio è quello che noi riteniamo essere ad oggi il più efficace e il meno invasivo. Quindi OLEP vuol dire enucleazione con laser ad olio della prostata. La OLEP può essere utilizzata per tutti quanti i pazienti che soffrono di perplasia prostatica. Ad oggi è veramente l'unico intervento che consente di trattare qualunque tipo di prostata, dalla prostata piccola o struente, quindi la prostata da 20 grammi, fino alla prostata molto voluminosa che allo stesso tempo ha un effetto negativo sulla nostra minzione. Quindi anche prostati 200-250 grammi possono essere trattate con la OLEP. Lo ripeto ancora una volta, è l'unica procedura chirurgica che ha questo vastissimo range di pazienti e di prostate che possono essere trattate. Detto questo, è di nuovo una metodica mini-invasiva, quindi nonostante a questa grossissima versatilità che ci consente di gestire qualunque tipo di paziente, è una metodica che viene fatta completamente per via endoscopica, non richiede taglio e ha dei tempi di ospedalizzazione e di recupero molto molto rapidi. Ritengo quindi che sia sicuramente una metodica efficacissima e da utilizzare in tantissimi ambiti che dovrebbe essere sicuramente implementata e dovrebbe essere sicuramente aumentata la percentuale degli interventi che vengono fatti con questa metodica. I vantaggi della tecnica OLEP sono tantissimi. Vi elencherò fondamentalmente quelli che sono i principali, quelli che stanno più a cuore ai nostri pazienti e comincerò subito col dire che essendo una metodica mini-invasiva è una metodica che non richiede taglio e quindi come tale è una metodica che viene fatta completamente per via endoscopica e questo ha degli ottimi effetti sul recupero post-operatorio. Ecco perché i nostri pazienti che vengono sottoposti all'intervento di OLEP, e questo è un altro vantaggio, solitamente stanno ricoverati solamente un giorno, il giorno dopo l'intervento, e oltretutto rimuovono il catetere già il giorno dopo. Quindi una dimissione che avviene in prima giornata post-operatoria senza catetere è sicuramente tra i vantaggi. Ma ancora di più posso parlare del sanguinamento. Il sanguinamento è un altro vantaggio enorme in quanto il laser ad olmio ha delle ottime potenzialità coagulative e come tale ha un'emostasi molto molto migliore rispetto a tante altre metodiche. Infatti proprio coloro che sono i pazienti un po' più fragili e quindi coloro che hanno problemi di coagulazione o coloro che hanno problemi cardiovascolari e quindi non possono sospendere terapie antiaggreganti, con l'intervento di OLEP sicuramente avranno tantissimi ingegneramenti e soprattutto potranno essere operati, cosa che con tante altre metodiche non è possibile eseguire. Ma potrei continuare con tantissimi alti vantaggi, ma questi che vi ho elencato sicuramente sono i maggiori. All'altra di tutti quanti i vantaggi che ho appena elencato, sicuramente la OLEP è una metodica un po' più complessa da imparare per tutti quanti i chirurghi, quindi è una metodica che richiede una curva d'apprendimento più lunga e una dedizione molto maggiore che non tutti sono disposti ad accettare. Detto questo non è l'unico motivo perché ovviamente è importante poter disporre della strumentazione. Una buona OLEP richiede un chirurgo molto esperto che abbia fatto molti casi, ma richiede anche una strumentazione moderna e adeguata che è necessaria affinché si possa condurre l'intervento nel migliore dei modi. Quindi sicuramente questi due sono tra i motivi principali. E poi ci sta qualcuno che ritiene che non sia una metodica buona come tante altre. In realtà credo che sia solamente una motivazione per non spingersi a imparare un qualcosa di nuovo e di moderno e di perfettamente efficace. Non dimentichiamoci che la linea guida europea, americana e biologia la riportano come tra le migliori metodiche che si possono eseguire per l'intervento di iperplasia prostatica. Abbiamo tantissime metodiche mini-invasive che si stanno sviluppando negli anni. Sostanzialmente è da più di dieci anni che stiamo lavorando sulle metodiche mini-invasive e ne abbiamo realizzate tantissime. In realtà quali sono i limiti di questa alternativa alla OLEP? I limiti sono principalmente quelli di non essere dedicate per qualunque tipo di prostata, nel senso che come ho detto poc'anzi la OLEP è l'unico intervento che consente di poter eseguire interventi su qualunque tipo di paziente affetto da iperplasia prostatica. Viceversa le altre metodiche mini-invasive è importantissimo che vengano targettizzate, cioè che vengano dedicate a quel tipo di paziente con quella patologia ben specifica, perché possiamo parlare ad esempio del vapore acqueo, vogliamo parlare del getto d'acqua ad alta pressione, tutte metodiche che attuiamo in maniera regolare, però non sono metodiche che sono aperte a qualunque tipo di paziente, così come sono metodiche che ad oggi ancora mancano di dati a lungo termine e dati che possono stabilire la loro reale efficacia. Ecco perché le linee guida europee e americane sono un pochettino timide nel approvare queste metodiche che comunque ritengo essere valide, perché di fronte a un paziente che viene selezionato in maniera corretta possono offrire ovviamente un'ottima alternativa. Eserviamo interventi sia con la OLEP sia con queste metodiche mini-invasive alternative. È importante a giorno d'oggi parlare con il paziente, capire quali sono le sue esigenze e attuare quella che chiamiamo la terapia personalizzata, quindi una discussione che avviene tra medico e paziente e si stabilisce ciò che è più indicato per quel paziente, per le sue esigenze e per il suo tipo di patologia.